cos'è che rendeva servi servi rispetto a quello che oggi noi non siamo è che non avevano proprietà e si ricorda che internet all'inizio è stato preso anche un po in giro eccetera poi man mano che è cresciuto ok è diventato sempre più importante allora il re moderno è l'investitore l'azienda l'erb in b della situazione il booking la situazione ha un obbligo fiduciario legale nei confronti dell'investitore quando il bnb deve decidere se buttare sotto il treno l'host o buttare sotto il treno l'investitore non è una scelta non ha una scelta la legge lo obbliga o la obbliga a buttare sotto il treno l'host voi se siete osti al bnb e io stesso non abbiamo nessun diritto al bnb in qualsiasi momento ci può cacciare dove ogni tanto senti delle persone che dicono mi hanno cacciato dalla piattaforma non mi hanno detto perché non so se avete sentito casi del genere purtroppo ce n'è un sacco di chi sono le recensioni cioè se voi avete 50 100 mille recensioni ma spesso si pensa sono belle sono mie me le sono guadagnate ci ho lavorato tanto perché perché sono piattaforme che vogliono possedere tutta la transazione vogliono avere visibilità su tutta la conversazione si dice sì è vero che nelle piattaforme diciamo gli ost sono un po sfruttati però il cliente viene trattato come un re e anch'io fino a due anni fa lo dicevo poi ho studiato meglio ragionato un po di più in realtà il l'ospite è manipolato ok in maniera subdola in particolare da booking recentemente ha imparato bene anche al bnb perché all'ospite non viene mai data la soluzione migliore per le sue esigenze ora prima accennavo al servo della gleba o al servo del digitale e dicevo che forse fantozzi stava meglio perché ora vi ho fatto tutta la la pappina su sulla situazione di esastrata ve l'ave l'ho fatta non perché da marzo ad oggi è successo il finimondo e adesso siamo nei casini questo era e sono discorsi che facevo già prima si sono sicuramente velocizzati quindi abbiamo visto un'accelerazione anche in questo caso e la tendenza è in quella direzione quindi da qui a peggio se vogliamo dirla in maniera semplice da qui a peggio di conseguenza cerchiamo di capire come muoverci e come uscirne il nuovo internet è esattamente come il vecchio internet però a tre superpoteri in più non fa solo trasmissione dati ma fa tre cose in più adesso vorrei descrivo una dopo l'altra nel web 3.0 quando tu carichi il tuo primo appartamento nel tuo primo portale e prendi una recensione e quel primo portale chiude o ti manda via quella recensione non è collegata al portale ma è collegata al tuo annuncio se vi ricordate rbnb ha spaccato home away rbnb verrà spaccato dal web punto del web 3.0 se non si adatta e perché l'host a un certo punto dirà ok io non ne posso più di mandare prenotazioni tramite piattaforme in particolare nelle date calde quelle dove comunque delle prenotazioni